ciao oggi l'introduzione alla passeggiata ve la faccio direttamente sul posto ovvero dall'ansa di castelnovate è un paradiso ricchissimo di biodiversità ed è anche una passeggiata facilissima ideale per la domenica per chi non è allenato per chi ha voglia semplicemente di rilassarsi passeggiando perché all'andata dalla centrale elettrica di vizzola ticino fino al fiume zona porto della frazione castelnovate sono circa due chilometri e mezzo fatti tranquillamente poi vabbè contate che si tornerà indietro il bello è che in realtà tutto l'anello se volete percorrere l'anello sono circa 7 chilometri ma è bella anche la passeggiata così è ben segnalata il sentiero è semplice quindi una bellissima passeggiata potrete incontrare è un'area fa parte di una riserva naturale del parco del ticino che si chiama proprio ansa di castelnovate ed è ricchissima di biodiversità tipiche di questa zona ad esempio potrete vedere il paesaggio tipico della brughiera e qui fiorisce il brugo appunto che è la pianta tipica da cui prende il nome la zona e ci sono diverse specie animali la volpe la poiana lo scoiattolo c'è la robinia che è un'altra la ginestra insomma è un luogo speciale ci sono i pannelli esplicativi del parco del ticino dove potete saperne molto di più che in questa mia introduzione e niente godetevi la passeggiata molto semplice e buona domenica grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.